Un cielo! Ecco qua, un altro vincitore! Minnie, va tutto bene? Sì, bene! Ma dobbiamo assolutamente tornare al programma! Fate la go! Sì! Oh, che cosa strana! Voi come la chiamate? Si chiama andare in slitta! Voglio andare in slitta! Anch'io! Vediamo! Spostando la pesca sul ghiaccio a venerdì e il curling invece a sabato potrei inserire la slitta per mercoledì... Sì, è l'attimo no! Pomeriggio! Divertitevi, amici della neve! Potete andare in slitta tutto il giorno! Sì! Sì! E vai! Ascolta, Heidi! Se vogliamo divertirci, va rispettato il programma previsto! Allora! Sì! Sì, occhi e bottoni! Ecco una novità! Lo sai, io seguo sempre la corrente, Minnie! Dai, ora vieni con me! Oh! È uno spasso! Ho un'idea, Minnie! Perché ora non passi tu al comando? Io? Ho un'idea, Minnie! Ho un'idea, Minnie! No, e adesso? Ciao, ciao, amici! È stata una forza! Ottime notizie, abbiamo organizzato un corso di yodel Chi tra voi desidera imparare lo yodel? Magari riesco a inserirlo nel nostro programma Ma in questo momento noi dovremo sciare Potremmo farlo un po' più tardi Sì, adesso yodel e lo possiamo Sì, e come dico sempre io, segui la corrente! Oh! Ed è qui, tra le maestose alpi che cantiamo le montagne E anche le montagne hanno una risposta Yodel e hee-ho! 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 Hey! Ma che ti sòicca e meccaccia che lo yepiscono la mia! Che e lo yepiscono la mia! Sssh, ma Perino, provocherai una valanga se fai così. Ti insegno io come si fa lo yodel. Yodelè! Yodelè! Wow, Pippo! Hai delle corde vocali molto potenti! Grazie! Sono così fin da quando ero un Pippo in fasce! Seguo la corrente! Seguo la corrente! Ce l'ho fatta! Esistete, palle di neve! Adesso ci pensi tutti! Scusi! È stato meraviglioso! Oh mio!